Eccoli qua i ragazzi che ci hanno salvato e ci hanno raccontato un po' come da lì arrivare nella zona di Fanes. Buona gita! Quell'ora in mezzo del Passo Cardena e quello lì è tutto il masticcio del Sella. Si è scesi lungo questo sentiero da lì in cima, laggiù c'è il lago, abbiamo cominciato a salire andremo alla forcella del lago. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!